pronto solo a lui solo a te non è vero anche te noi riscendiamo Luca, Alice e Silvia yeah comunque ti stavo dicendo ci abbiamo lezione metti in una pentola a tutti allora metti guarda qui sotto com'è, è semplicissimo questo, metti, tagli le patate a cubetti e sentimi che poi quando esci fuori ti servono queste cose tagli le patate a pezzettini sentimi, tagli le patate a pezzettini metti in un pentolone l'acqua e gli metti il riso e le patate tutti insieme poi accendi il fuoco lento e fai consumare tutta l'acqua così le patate le patate prendono il sapore si amalgama tutto poi gli metti un po' di sale e poi per vedere la prova perché la pasta e le patate si abbonano sai qual è la prova per vedere la prova del cuoco la prova del cuoco poi devi fare la prova del cuoco tu la cacci finché devi mettere la forchetta e non si deve piegare più contento che si scrive una canzone sono convinto sì, davvero la prova qua è che esce da buono sai che devi fare il risotto si secca tu devi mettere la forchetta dentro e non si deve piegare cioè devi rimanere ferro perché continui a che la pasta è proprio se è più contento quando cucini e mangi o quando scrivi una canzone quando cucino non ci ha pensato un attimo secondo me posso fare il cuoco se non mi vuoi guarda, secondo me pure bene lui se gli dici di do un miliardo e ti do un piatto di pasta lì decide il piatto di pasta ma certo certo, scherzi con il miliardo col piatto di pasta campi con il miliardo no bravo Mario bravo però con il miliardo puoi comprarti tanta pasta e tante cose da me ma i miliardi soldi non si mangiano sì però si usano per comprare Mario vedete lì che fa lì vedi i soldi di qua vedi il piatto di qua li mangia i soldi non funzionano bravo i soldi non si mangiano cioè lui questo si fa capire che lì è per le cose c'è il piatto già pronto lo mangia sembra li deve spendere deve uscire bravo sicuramente così che cuore grande che hai Mario più che altro stai lì stai per morire di fame dici oh c'è questo è pronto oppure i soldi devono uscire una cosa è pronta io vado a fumare basta mi avete stancato di chi è quel caffè che palle bravo Mario scrivite qualche ricetta guarda che le ricette che tu prendi in giro servono più a te che a me io non cucino perché tu domani quando avrai bisogno di cucinare ti sai cazzo e mi sono perché l'ho scherzata com'era quella ricetta riso patate e cozzela poi mi devi chiamare mi devi dire Mario come si fa questa pasta per cucinare poi me la fai te e me la spedisci l'hai visto e poi tra l'altro se tu fai tipo l'alberghiero per farlo mangiare così diventi fuoco e vai all'estero sei richiestissimo sì sì perché la cucina italiana ah voglio hai ragione ma spopola veramente quindi trovi eh a voglia la pizza in Cina un ragazzo che conosco io che ha un anno in più di me ha fatto un alberghiero a salso maggiore dove fanno le miss vicino a casa mia ha fatto un alberghiero a salso e poi ogni tanto va sempre in Inghilterra perché lui ha la passione per l'Inghilterra no e proprio lavora là perché comunque hai ragione è molto richiesto ah voglio che la cucina italiana è una delle migliori al mondo penso sì 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 cioè chi ci batte a noi cioè non è non è come non è un lavoro sembra un lavoro strano poco ma non lo è però vedi già sei sbagliato a parlare Mario perché? tu hai detto che tra un miliardo è una pasta e la pasta scegli la pasta ah poi vai all'estero per cucinare gli altri per farti i soldi ma che c'entra è normale che prendevi il miliardo ti prendevi il miliardo e non andavi a cucinare ma è normale che voglio i soldi mi voglio sfondare dei soldi e vedi e allora inizia a non mangiare beh io invece che cambio mestiere faccio lo chef bravo Mario bravo bravo Mario bravo bravo madonna mia lì ma vedi come fumo così cosa che sia semplice armonia e va a file ali e vola via di va no capito qual è questa? ma sarà sarà in giro del basso non lo so è un'altra canzone ah come si chiama? mi sono levati i baffetti si me ne scappano sempre non li vedo questa luce mi dovrei mettere la luce naturale tutte cover ha fatto saggirei è una domanda non lo so credo di si ho avuto per quello non so nemmeno come fa praticamente sono andato su internet a vedere qualche foto qualcosa chi? io no chi è? saggirei saggirei chi è? come chi è? quello che fa le cover delle canzoni disco che sono le cover? che le rifa lui cioè che ricanta le canzoni disco in versione acustica ultimamente le cover vanno un casino eh sì ma perché comunque hanno hanno un margine di vendita come si chiama? Giulio Palma Giuliano Giuliano Palma hanno un margine di vendita molto più alto rispetto agli inediti perché la gente le conosce già quindi nel momento in cui sente la però ha fatto le cover tutta la stessa versione sì ma lui fa lo ska sei un coglione non mi hai lasciato un po' di caffè mi sono dimenticato purtroppo con la crisi che c'è adesso molta gente mi sono dimenticato ancora lo riprima mi giro la pezza a badare in Puglia 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 doveranotte no resto qua ci siete? ma 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 no resto qua Grazie a tutti.